Salve, salve, salve 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 Grazie a tutti. 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 e tutti. Grazie a 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 tutti. e tutti. Grazie a 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 tutti. e tutti. Grazie a 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 tutti. . Grazie a tutti. 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 . Grazie a tutti. . Grazie a tutti. Grazie a tutti. . Grazie a tutti. . . . . . . Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info il nostro corso gratuito Anni maggi Beharava maggi vedi Sama di ti sama Sangha piyango in beharava maggi vedi Me palle Insan nekkam me niraturu Jeevite te te gudhuggraganye Me nekkam me Sine di tabasci Me nekkam me Maitri di tabasci Me nekkam me Pinkame di tabasci Me nekkam me Dane di tabasci Me nekkam me Sati di tabasci Me nekkam me Samadhi di tabasci Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sama Vacha, Sama Khammanto, Sama Jeeva. Siamo qui? Aria stangica marge marga anga atten, marga anga tunak vengkara ne si leta. Marga anga tunak vengkara ne si leta. In adaswe ne moccarder, gihi ke vene kveva, paviti ke vene kveva, si le in torre, Sama Satya, Sama Sama Diyak, Mapping Admi. Si le in torre vidashuna vaka ne, enisa si le pilipada api visheshavada ne yomkana anno ne, Mokadha si le amai Sama Sama Diyare paara kiya ne indriya sangvarayai, Enisa Sama Vacha Vantula Chakkin Admi. Mokadha Sama Vacha Diyane, Musa Vada, Pisuna Vacha, Parusa Vacha, Sampak Vala Pa, Dina Dini, Abye Harga sahab, Shira Tartu ka Allahan na, Demi, api me, pinga ma patanga ni, sella api gaur vanei ay Sahao Dara Swamiswam imfan say, Obeta paansil nezi sama adhan kale, Namud, arayashtangiki ka marge tulabhi silei ayemme ajivığ atam kasee liayayayay, Mokadha samma ajiv e tiye enama, Ena ajivığ atam kasee liayayi sama adhan kale, Sa adhan kale, Ehi? Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Il nostro corso gratuito Il nostro corso gratuito Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Grazie a tutti 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 Grazie a tutti